ben tornati a pez cari amici andre adesso sta per arrivare un momento che stiamo aspettando da tanto tempo è vero è un personaggio molto particolare lui è sempre in giro per il mondo ma presenta tu federica infatti abbiamo la fortuna e l'onore di avere qua con noi un grande top model e un attore roger gart ciao roger un applauso ciao a tutti fantastico subito che si mette in posa delle camere ma perché mi hai insegnato tu no no figlio d'arte roger da dove arrivi da tanti posti diversi ormai perdo veramente la condizione del tempo da tanti posti diversi beh adesso tu sei sappiamo che tu sei arrivato da los angeles perché hai girato uno spot televisivo o una una sfilata non so cosa stavi facendo racconta un spot televisivo ma come fai a saperlo io non te l'ho detta noi per averti qui ti abbiamo inseguito ovunque io ho fatto di tutto per cercarti alla fine mi è arrivato il tuo contatto e ti ho immediatamente rintracciato e sapevo che tu avevi un cane molto bello come calari e allora ti ho chiamato e ti ho voluto qui come ospite sono bravo sono venuto subito immediatamente ti ringrazio infatti sappiamo benissimo che tu sei un amante degli animali e soprattutto dei cani vero sì sono un patito di animali sin da sempre mammiferi in generale sì 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 e calari uno splendido levrero afgano sì come mai la scelta di un levrero afgano beh dopo anni ho avuto tanti cani ho avuto alani i pastori tedeschi diciamo proprio il classico cane e non essendo più un tipo da cane in realtà mi sono sempre detto se mi devo rifare un cane deve essere un cane particolare più simile al mio carattere poi con lo stile di vita che faccio è difficilissimo avere un cane no immaginate e quindi ho puntato sui levrieri che non conoscevo no che è un cane particolare che pochi conoscono ha un carattere molto molto particolare verso le cani non perdono pelo non abbaiano non odorano molte caratteristiche e all'inizio avevo puntato su un saluchi che è un levrero persiano che è molto simile so al levrero afgano è simile però diciamo ha tutto il pelo corto a parte le frange e la coda e un po le zampe frangiate però da lì è nata un'epopea assurda perché era introvabile questo cane io lo volevo bianco e tutto poi per caso ho visto delle foto del levrero afgano oyster bianco che è ancora più raro ecco ti interrompo roger oyster perché oyster cosa vuol dire oyster perché madre perla ora lui ancora deve terminare lo sviluppo finisce verso i quattro anni qua sopra diventa infatti grigio proprio color madre perle il resto è bianco ha delle sfumature quando le orecchie vanno da lavana a nocciola ed è una una varietà rarissima lo aspetta tanti anni perché di solito sono il classico biondo no biondo biscotto poi ci sono con la maschera e senza maschera con la maschera e col muso nero se non sono neri tigrati ce ne sono di vario tipo e lui infatti la mamma è nera è nato solo lui così e quanto tempo ha calari adesso tre anni e quindi finisce lo sviluppo a quattro sì sono molto molto tardivi si 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 non tornano tanto finiscono lo sviluppo a quattro anni infatti anche si vede che è cuccio anche come si comporta morbidissimo ha sentito richiede molta cura e molta toilettatura una curiosità il nome calari secondo te calari sembra un nome che viene dal deserto suppongo il deserto del calari bravissima il deserto di questo nome un po particolare per questo il quarto deserto più grande del mondo sta sudafrica bosvana namibia e gli ho dato questo nome in realtà l'avevo scelto per una figlia femmina poi io ho detto faccio una pausa non faccio figli per ora togliamo l'alcana e ci abbinava bene c'è una storia lunga ho fatto un bel viaggio con una persona nel calari quindi avevo questo bel ricordo quindi calari deriva proprio dal nome del deserto perché hai fatto questo viaggio con una persona particolare bene e adesso direi che ne approfitterei per mandare la clip che abbiamo preparato con un po di informazioni sull'ebrero afgano guardiamola insieme conosciuto principalmente come il fido compagna quattro zampe di barbi il levrero afgano chiamato anche tasi in lingua araba è in realtà una razza molto elegante e di origini antichissime si pensa che il progenitore di questa razza giunse direttamente dall'asia centrale insieme agli indoeuropei che si insediarono nelle regioni settentrionali dell'attuale afghanistan figure canine somiglianti all'evrero afgano sono comparse su graffiti risalenti addirittura al 2000 avanti cristo e persino la leggenda vuole che sull'arca di noè vi fossero due esemplari di questa razza la sua apparizione in europa è relativamente recente in quanto fu introdotto solo agli inizi del novecento dai soldati britannici di ritorno dalle guerre anglo afghani come tutti i levrieri è nato come cane da caccia ma oggi è esclusivamente un cane da compagnia e da show la sua particolarità è sicuramente il mantello il pelo dell'evrero afgano lungo e setoso è infatti molto simile ai capelli umani in continua crescita e sprovvisto di sottopelo per la gioia di tutti i proprietari che tremano all'idea della muta nonostante la sua folta a chioma questo cane soffre particolarmente il freddo ed è preferibile tenerlo a casa al calduccio la sua struttura fisica è leggera e di gran classe è molto forte e veloce e può raggiungere la velocità di 60 km orari il muso è a lungo appuntito con un naso di colore nero l'altezza ideale è per i maschi tra i 68 e 74 centimetri e per le femmine tra i 63 e 69 la coda deve presentare un anello al termine sono ammessi tutti i colori ma i più rari molto ricercati e pregiati sono gli oyster in madreperla gli oyster sono quegli esemplari con muso chiaro groppa di colore grigio argento manto bianco e orecchie con sfumature che vanno dal lavore al nocciola questi ultimi sono una varietà selezionata da pochissimi allevatori in tutto il mondo anche se con gli estranei mantiene il sospetto aristocratico fiero e composto verso il padrone dimostra affetto smisurato e acuta sensibilità e spesso rivela un'insospettata vitalità e allegria aristocratico fuori e dentro ma una volta calata la maschera il levrier afgano si rivela un grande grande amico bene amici ora sappiamo di più sulle levrier afgano ma roger raccontaci una cosa un po' ma è vero che il levrier afgano ha bisogno di tanta manutenzione cioè il tuo calare ha bisogno di tanta manutenzione? beh è una tortura non posso negarlo anzi adesso l'hai spettinata si offende ma io so che nella borsa so che nella borsa ti sei portato spazzole e piastre ma è per te o per calare? la piastra è per me perché lui purtroppo per me è liscio naturale capito? quindi ti fa pure invidia è sempre liscio mai cresco quando hai fatto quando hai fatto quella campagna pubblicitaria di una nota casa di moda però non possiamo dirlo ovviamente e c'è anche calari è stato anche lui trattato come verrebbe trattato un vero vip quindi con pettinature piastre oli creme eccetera eh ma l'hai visto hanno trattato solo lui da vip per me ormai mi chiamano solo per il cane infatti nella campagna pubblicitaria vedo in primo piano calari e roger è molto dietro la comparsa roger è la comparsa esatto la special guest è calari bene che altre domande posso farti su calari? prima hai detto che non abbaia ah è vero è vero prima hai detto che non abbaia i livrieri non abbaiano mai tranne una volta che mi ha fatto fare una figuraccia in una diretta televisiva io non abbaia mai gli avevano messo un'altra cagnetta e abbagliata l'unica volta che l'ho sentito in vita mia se no non abbaiano anzi se sento lui quando sente le campane fa dei suoni un po' strani sembra un po' un'alce costipata fa delle cose un po' strane se no mai e non perdono pelo per fortuna se no sarebbe da spararsi una roba così e dicevi che non ha odore e non puzzano mai perché qual è perché non puzzano i... tutti i livrieri anche i barboncini perché essendo cani di zone desertiche come tutti gli animali delle zone desertiche non devono avere non hanno uno substrato di pelle di grasso per far sì soprattutto i predatori ma anche le prede che sia i predatori che i librieri si sentano a grande distanza e quindi col tempo hanno proprio l'unico canale infatti anche per i vaccini per alcune medicine sono molto più delicati per questo motivo c'è proprio una spiegazione scientifica sì anche per i veterinari i livrieri devono avere quello specializzato per i livrieri certo Roger che come si chiama Kalahari ti assomiglia tantissimo perché è sempre davanti alla telecamera è sempre in posa è proprio abituato a lavorare con le telecamere e con... come un attore come un vero attore si siede sul divano ma è pazzesco è veramente... è seduto sul divano e nessuno l'ha messo si è seduto lui è incredibile perché lui l'ha educato tantissimo perché ecco un'altra cosa dei livrieri tendono ad essere selvatici come il lupo cecoslovacco come alcune cani sono poco addomesticabili anche lasciarli liberi è quasi impossibile perché mantengono la loro arte venatoria che prendono e scappano siccome hanno una vista pazzesca eccellente certo non lo prendi più se scappa lui perché vanno a 80 km orari è pazzesco Roger perché si intende di tantissime razze di cani perché fa tutti i paragoni con... infatti vedo che è un esperto mi sa che qua ti potrebbe rubare il lavoro Andre eh capisci arriva sempre una bionda più giovane ma fa anche la guardia Kalahari? si ha lo specchio si mette lì davanti se tocchi lo specchio si arrabbia no non so in realtà è capitato alcune volte sì esce un cagnone che non te lo aspetti perché comunque sono di stanza grande comunque un maschio comunque sì di indole sono comunque molto pacifici molto schivi è per questo che molta gente reputa i livrieri stupidi perché non danno confidenza non è il classico cane che entra e ti fa le feste sono molto schivi molto riservati molto più felini sotto alcuni punti di vista come carattere e quindi poco capiti molto emotivi però io che ho avuto altri cani non me lo aspettavo un carattere del genere ci siamo proprio capiti siamo qua anche per questo infatti per raccontare il carattere anche dei livrieri che magari sono meno conosciuti come razza e comunque è vero Fede e comunque Roger tu conosci molto bene il tuo cane ma sai che molte persone hanno un cane in casa e non lo conoscono così bene cioè sanno qualcosa del loro cane ma non così bene come lo sta raccontando Roger sì Roger è molto informato pazzesco vedo proprio in simbiosi con te ma è così anche delle persone vediamo con persone che pensiamo di conoscere e non le conosciamo è così bisogna saper ascoltare bisogna saper capire se no è impossibile se tratti il cane come un bambino è persa già in partenza il cane è un cane, è un animale deve essere rispettato, amato e trattato da cane bene, trattare da cane non è una cosa negativa mentre purtroppo ad oggi giorno il suo tratto come un bambino è sbagliato è come se un bambino lo tratti da cane, non si può e comunque Federica i livrieri afghani sono molto più fortunati rispetto ad altri livrieri che noi conosciamo i galghi, sì, i spagnoli, certo, sono molto sfortunati che vengono usati anche per corse, per competizioni quella è la cosa più bella che fanno sono anche torturati quando finiscono la carriera speriamo che la Spagna prima o poi riesca a fare delle leggi contro contro queste violenze sugli animali anche la corrida, anche altre cose ma scusa Roger, però i livrieri afghani non vengono, sappiamo benissimo che non vengono utilizzati per la corsa nonostante comunque sono cani da corsa, giusto? ma no, con questi capelli non capiresti più niente cominciano a correre tutti quando sono al finish una lunga confusione bigodini, bigodini che volano, spazzali via calari va d'accordo con gli altri cani? molto, però appunto non avendo odore, molti cani lo attaccano soprattutto i maschi, sin da piccolo perché... come non hanno odore? io ho visto che li hai messo su uno Chanel numero 5 con bellissimo con l'arino questo ecco, questa è un'altra particolarità perché molti purtroppo quando va in giro mi chiedono perché a questo a cosa servono questi? questi servono per i livrieri afghani perché avendo queste orecchie lunghissime se non vuoi farlo lerciare si deve tenere le orecchie quando piove e quando mangia e questo viene a mamma questo gliel'ha fatto Ploth la mia collaboratrice amica gliel'ha fatto a mano lui ne avaria quelli estivi, quelli invernali anzi lui non mangia senza proprio lo richiede quindi ha tutto il suo guardaroba è un po' la Befana di gennaio, vero? fossero così le Befane comunque bravissimo Calari, veramente complimenti Rosa gli piace correre, giocare cosa fate? fate insieme nel tempo libero si corre, lo porta agli arecani soprattutto a Roma per fortuna a Roma Nord tutto verde ci sono molti arecani e lì gioca, corre, fa i suoi scatti meravigliosi, pazzeschi infatti noi li abbiamo visti insieme e abbiamo preparato una clip con un pomeriggio passato noi tre e Calari guardiamola insieme siamo andati in scuderia come pensi che si sia trovato? bene, lui ama tutti gli animali poi è molto curioso veramente in piccione sembra un bambino e non so cosa possa pensare cosa sia pensi che gli siano piaciuti? sicuramente ma come? cosa può pensare? abbiamo appena detto che vive in simbiosi con te che lui sa tutto di te devi sapere cosa pensa Calari dai ma dici che riconosce le razze dei cavalli? ma secondo me sì non lo so saprebbe distinguere una zebra di Asman da una zebra di Grevi? secondo me sì è vero secondo me sì parlando invece di alimentazione che cosa mangia Calari? allora sono molto delicati soprattutto lui quindi lo alterno con dell'umido e del secco delle croccantini scelti, selezionati e le altre volte li cucino io ma noi siamo andati su internet sul tuo canale YouTube in particolare e abbiamo visto che ci sono diversi video non solo con Calari e con cani ma con tanti animali anche particolari sì e beh girando il mondo io per fortuna ho una bella vita ho molte vacanze tutte amo molte poste animali posti con animali con poca gente perché io non sono molto amante della gente sono un po' schivo e quindi vado in questi posti più isolati possibili e quindi mi diletto a far vedere alla gente che mi segue anche che un po' come me esatto abbiamo visto tartarughe, squali sì sì cerco anche di prendermi le cose ogni tanto mi stavano arrestando in Australia due anni fa che ho cercato di rubare un bombato è un marsupiare un mega cricetto esatto sto scherzando dove l'hai messo il bombato dopo? sta qua dietro e quindi adesso salta fuori esplode bello il wombat sì perché gli animali sono tutto secondo me però anche le piante è vero che Roger io so che Roger è un amante delle piante infatti a Roma l'ho visto ho visto Roger piantare dei bellissimi ulivi in questa aiuola nel centro di Roma mi ricordo che ci siamo incontrati lì e abbiamo parlato un po' di questa tua iniziativa, passione tra le varie patologie mentali ho questa degli alberi sì sì curo delle aiuole pubbliche pianto ogni amico ha un albero ogni amico ha un albero li curo li gestisco ma io non capisco come la gente non possa amare gli alberi quando vedo anche dei balconi dei terrazzi vuoti mi viene proprio star male da dirgli ve lo faccio ve lo faccio io vi prego però non tenetelo vuoto perché è così brutto secondo me c'è poca cultura del verde in Italia perché siamo abituati troppo bene sendo un paese che ha tanto verde siamo abituati male e non lo riconosciamo quanto è importante se gli alberi dessero il wifi li valorizzeremmo invece danno solo l'ossigeno e non se ne rendiamo conto è vero Roger hai detto una cosa giustissima è verissimo Roger fra i tuoi tanti progetti lavorativi so che sei anche protagonista di un film di Ruggero Deodato vogliamo ricordare che è Ruggero Deodato che è un noto regista che negli anni 70 fece questo film Hannibal Holocaust un film cult è tornato in voga dopo 20 anni e lui ti ha scelto come protagonista in questo film vuoi raccontarci un attimino di cosa si tratta? sì è un grande ritorno dopo 20 anni di Ruggero perché aveva smesso non voleva più riprendere invece ha avuto questo progetto bellissimo e appena me ne ha parlato mi ha chiamato io ero San Francisco mi ha subito convinto sebbene io non voglia fare l'attore praticamente è basato sulla storia del giallo di Perugia io sono uno dei protagonisti sono una di quelle persone chiave molto interessante è un horror thriller molto pesante in questi giorni si sta presentando al festival di Buenos Aires ha già vinto molti festival vedremo bello bella esperienza siamo un grande regista grande persona siamo molto amici davvero? sì senti Calari era con te sul set ha fatto qualche parte oppure è rimasto dietro le quinte? sì l'agnello sacrificale no essendo un film horror è meglio che non abbia visto certe robe grazie Roger grazie di essere stato con noi grazie Andre grazie Calari che è bellissimo e viva gli animali ricordiamo che tutti gli animali tutti i cani sono speciali hanno bisogno di tanto affetto tante cure e anche le piante non dimentichiamo e non ci devono essere le scuse del pollice verde come dicono molte donne perché il pollice nero non esiste il pollice verde ce l'hanno tutti basta imparare a conoscere la buona volontà basta imparare a conoscere ogni specie come gli animali ha le proprie caratteristiche e le proprie esigenze ben detto allora grazie e ci lasciamo per un attimo di pubblicità